Mi chiamo Olofsson, Clark Olofsson, e voglio raccontarvi la mia storia. Forse avrete sentito parlare di me, rapinatore di banche e criminale famoso. Per il mondo sono l'uomo della sindrome di Stoccolma. Doveva chiamarsi la sindrome di Clark Olofsson. Se non potevo dare il meglio di me... Hai già finito? Parli con un professionista. Beh, allora avrei dato il peggio. Me la sono spassata alla gamba. Grazie, mamma. Potremmo parlare un po' di tuo padre? Ho la sensazione che temi di diventare come lui. Questa società di merda non mi ha mai permesso di vivere onestamente. Sì, è vero. Tu hai così tanto da dare. Potresti diventare un modello di comportamento. Che c***o! O lo so. Io sono Janney Olson. Il dramma di piazza Norman Stork. La cosa che mi ha reso super famoso. Sembra che si stiano divertendo. So di essere un pazzo, però ci sto provando. Tu hai così tanto da giocare. Come on. Grazie a tutti.